Doccia fredda sugli stabilimenti Piaggio Aerospace di Villanova d'Albenga e Genova. Le preoccupazioni espresse dai sindacati nei giorni scorsi si sono tramutate in una triste realtà con l'annuncio dell'avvio delle procedure di licenziamento per 114 lavoratori, 84 dei quali in servizio a Genova e gli altri a Villanova. Ieri sera è stato fissato per il 19 marzo un incontro urgente al Ministero dello Sviluppo Economico alla presenza di governo, regione, azienda e rappresentanze sindacali. I lavoratori che hanno ricevuto le lettere di licenziamento sono attualmente tutti in cassa integrazione fino al prossimo luglio. Il Presidente della Regione Giovanni Totti, l'Assessore Regionale dello Sviluppo Economico e neoparlamentare Edoardo Rixi hanno espresso sconcerto per la decisione di Piaggio di procedere con il licenziamento di 114 lavoratori senza informare in alcun modo le istituzioni locali. Per Totti e Rixi suscita anche perplessità il silenzio del governo che più volte sollecitato circa le strategie che intendesse mettere in atto, ha numerose volte rassicurato circa la propria attenzione e il proprio impegno sulla vicenda. La Regione, dal canto suo, ha confermato l'impegno circa la riassunzione di una parte della Forza Lavoro di Genova nelle aziende che si aggiudicheranno tramite gara gli spazi precedentemente occupati da Piaggio, ma i tempi saranno inevitabilmente lunghi.